Adesso, diciamo, rimaniamo un po' più dentro Transform Italia e do la parola a Franco Ferrari per la sua relazione. Sì, tema è scenari politici, è stato detto, come dire brevi cenni sull'universo. Saranno brevi cenni, non sarà l'universo, ma la prendo abbastanza alla larga. Io ho cercato in diversi articoli di porre la questione della strategia, cioè della visione complessiva che a mio parere la sinistra dovrebbe avere, al di là anche delle scadenze che incombono gli appuntamenti elettorali, la ricostruzione di relazioni fra soggetti politici e così via. Io credo che sia necessario, è un'opinione che non è condivita da tutti, ma in qualche modo quello che ad esempio nel dibattito americano viene chiamato il grande disegno, oppure per un termine che è andato di moda per dire che non bisognava più farlo, che era la fine delle grandi narrazioni. Cioè non il bricolage delle idee, degli obiettivi, ma un orizzonte più generale. Un paio di compagni che hanno lavorato negli Stati Uniti alla campagna di Sanders hanno scritto un libro, di cui adesso non ricordo il titolo, ma qui sostanzialmente dicevano se si vuole mobilitare un movimento, se si vogliono mobilitare le persone, bisogna che sia chiaro a queste persone che l'obiettivo è importante, che l'obiettivo è grande. Perché l'obiettivo è grande? Perché le contraddizioni e le crisi del sistema sono a se stesse grandi. Ora, strategia per me vuol dire rispondere a tre domande. Che cosa, come e con chi? Allora, noi veniamo storicamente da un paradigma classico che dava una risposta a queste tre domande, che era contemporaneamente contenuti in migliaia di pagine, migliaia di volumi che approfondivano tutti gli aspetti teorici, ma che poi alla fine veniva compreso anche dalle persone comuni, anche questi libri magari non li sapeva leggere perché era analfabeta. Il paradigma classico diceva sostanzialmente queste tre cose, capirete che vado con l'accetta, insomma, che l'obiettivo era un'altra società, socialismo, comunismo, con una certa graduazione, che il come era la conquista del potere politico, su cui poi ci sono infiniti dibattiti, la gradualità oppure la rottura rivoluzionaria, la forma armata, la forma pacifica e così via, e gli strumenti con chi erano fondamentalmente due, il partito politico e la classe operaia, come architrave di un insieme di alleanze che poi volta per volta potevano comprendere o cetimedi o contadini a seconda del tipo di società. È evidente che questo paradigma non è andato in crisi solo nel novanta, è andato in crisi già negli anni sessanta, però in quel momento era una crisi che offriva anche dell'opportunità di nuove idee, nuovo pensiero e di un arricchimento di quel paradigma. Il novanta è stato il momento conclusivo in cui la crisi è diventata in un qualche modo non più recuperabile. Rispetto a quei tre punti, a quelle tre domande, sono emersi frammenti di risposte, legati anche a esperienze specifiche. Allora, che cosa era l'ecosocialismo, il socialismo del ventunesimo secolo, legato spesso anche a esperienze specifiche, il Venezuela per un certo periodo e così via. La questione del potere politico è stata rimessa in discussione, sia sull'idea del potere e sia anche, è stato detto in un certo momento, rivoluzione senza prendere il potere politico, sull'esperienza dello zapatismo, e anche il partito è diventato strumento politico, quindi con una grande varietà di forme. Il fronte di partiti, il fronte di partiti individui, il fronte partito, se pensiamo all'America Latina e tutte le varietà, ma anche il partito grassoso, di cui si parla per farsi insumisi, il partito movimento, eccetera. Quindi un enorme ripensamento del ruolo del partito, ma anche una grande quantità di esperienze diverse su quel tema. E la stessa, come dire, coalizione sociale su cui ci si poteva basare, non era più quella tolemaica della classe operaia al centro, e poi via via, soprattutto quella della grande industria, gli operai della grande industria, e così allargandosi, ma ha assunto dimensioni caratteristiche diverse. Quindi crisi di quel paradigma, ricerca di nuove risposte, a quelle tre domande che dicevo. Ecco, per semplificare molto, credo che ci siano stati tre tentativi di costruzione di paradigmi diversi, per dare risposta a quella crisi. Uno è quello che definirei, diciamo, del mosaico coalizione altobaleno. Il concetto di sinistra mosaico è stato utilizzato da Mario Candeas, che è un compagno della Fondazione Rosa Luxemburg. Mosaico vuol dire tanti pezzi che però messi insieme, alla fine compongono un disegno organico. Poi non so se lui sarebbe, se la sua idea, comunque io la vedo in connessione all'esperienza della coalizione altobaleno, quella che ha avuto la prima realizzazione, la prima realizzazione, o tentativa di realizzazione, con le esperienze di Jesse Jackson negli Stati Uniti, cioè il mettere insieme identità diverse. Una mobilitazione dell'identità, fondamentalmente. Chi va a rivedere le analisi sulla coalizione altobaleno vede che ci sono i neri, le femministe, i nativi americani, i sindacati, eccetera. Questo tema si è in parte, ad esempio, recuperato in una discussione che c'è stata fra intellettuali che facevano riferimento a Elizabeth Warren negli Stati Uniti ed altri che facevano riferimento a Bernie Sanders. Sanders pensava che si poteva andare a conquistare consensi anche negli Stati tradizionalmente repubblicani puntando sul fattore socio-economico. Cioè l'operario, il proletario, va conquistato su quel terreno. La risposta, c'è un articolo che da qualche parte avevo citato, di intellettuali vicini al lavoro, dice no, perché alla fine l'identità è più forte dell'aspetto socio-economico. Quindi se tu vai a parlare a quelli che si considerano fondamentalisti cristiani o comunque bianchi o comunque di altre identità non riesci a spostarli dalla loro posizione. Un secondo paradigma, quello che è stato oggetto di discussione molto più forte negli ultimi tempi, è quello del populismo di sinistra. E qui, diciamo, abbiamo visto le esperienze latino-americane per un verso, dove l'elemento populista però ha un radicamento storico molto più forte, anche se di vario orientamento, e poi l'esperienza Podemos, l'esperienza adesso di Melanchon, anche se secondo me, diciamo, nell'ultima campagna elettorale ha un po' corretto il tiro rispetto a quella di cinque anni fa, e così via. Io lo semplifico così, l'elemento populista di sinistra, che si basa sulla coppia amico-nemico. Tu devi individuare innanzitutto il nemico. Questo, peraltro, è diverso dalla tradizione marxista, che individuava l'amico, è quello che è portatore di un'idea, di una visione di società diversa. Ed è da lì che poi individui il nemico, cioè lo sfruttatore, il capitalismo, eccetera. Diciamo, in un qualche modo, il populismo inverte il meccanismo. Prima individui il nemico, e dal nemico costruisci un amico, che però fondamentalmente è costruzione di narrazione, cioè in parte arbitraria. Non ha il fondamento nei rapporti sociali. Ora, nel populismo si può dire che ha sicuramente dimostrato capacità di costruzione di consenso, anche elettorale, l'abbiamo visto, meno nella capacità poi di consolidare questo consenso in qualcosa che resta e che riesce anche a trasformarsi in capacità di cambiamento dei processi reali. Il terzo paradigma, diciamo così, o tentativo di paradigma è quello che si legge un po' più anche negli ultimi tempi in qualche intervento, se non ancora in esperienze concrete, è quello del workers' bus party, cioè del partito di massa che ha un fondamento non più nella classe operaria in senso stretto, ma nel mondo dei lavori, dei lavoratori. Direi che, diciamo, su questo filone collocherei la rivista americana Jacobin, ma anche alcuni interventi, alcune riflessioni della sinistra europea scandinava. Io da qualche parte ho citato, in uno degli articoli che sono anche messi sul sito, avevo citato un intervento di un compagno dell'alternativa rosso-verde danese che in un qualche modo esplicitava questo tipo di indicazione, che in un qualche modo la definirai un'ipotesi neoclassica, cioè un intervento di rivedere l'esperienza novecentesca, socialdemocratica, eurocomunista, in parte comunista, però aggiornandola all'oggi, aggiornandola ai mutamenti della struttura sociale, ai movimenti della classe operaria e del mondo del lavoro, però puntando su un radicamento nella struttura sociale, quindi non solo nella costruzione del consenso attraverso la narrazione. Io credo, e cito questi, perché ovviamente sono semplificazioni di dibattiti molto più complessi, ma che in un qualche modo ci consentono di fare una discussione anche più esplicita, più chiara, più comprensibile a chi viene chiamato anche a svolgere attività di militanza. Io credo che questo sia uno degli nostri obiettivi della nostra riflessione, credo complessivamente facciamo come Tansom, ma credo che sia opportuno estenderla e rafforzarla. Mi fermerei qui perché ho il tempo. Grazie.